Il sindaco Stefano Farina è stato confermato prima dall'Assemblea dei Sindaci e successivamente dal Consiglio di Amministrazione alla Presidenza del Piano di Zona Sociale di Lioni. Farina è stato rieletto quasi all'unanimità alla guida di un ente che è e deve essere sempre di più fondamentale per un territorio in difficoltà come quello dell'Alta Irpinia. Ai nostri microfoni la soddisfazione del primo cittadino di Teora. Dopo il primo triennio di impegno in un consorzio che per le tematiche che tratta si occupa anche di cose molto delicate ho detto ai colleghi sindaci, ho trovato la quasi unanimità, che ritenevo importante approcciando al rinnovo di questo CDA e quindi del mio ruolo di Presidente, di percorrere e di iniziare una stagione nuova. Io ho riconosciuto la sovranità degli amministratori locali, ho detto che avrei evitato qualsiasi tipo di ragionamento che fosse fuori dal tavolo dell'Assemblea e forse così, richiamando anche un po' perché l'ho condivisa molto Sua Eccellenza il Vescovo, a cui va il mio pensiero per un lutto che ho avuto in questi giorni all'intitolazione della biblioteca a guardia all'amico Giandonato e compianto Giandonato Giordano disse ricamiando una stagione politica che era tempo di aprire un patto geografico anche in Alta Erpinia Diciamo che io l'ho letta un po' così, nel senso che quando poi gli amministratori che hanno la responsabilità delle decisioni e spesso si trovano anche soli con la difficoltà delle decisioni era giusto che gli amministratori ragionassero insieme sapendo che parlavano di una tematica delicata e io su questo ho trovato la responsabilità, la maturità e la capacità degli amministratori locali di fare sintesi e di sentire la responsabilità di continuare un impegno che loro hanno ritenuto e questo mio onore da parte mia sia stato serio, meticoloso, aperto e scevro da condizionamenti che non fanno bene alla logica dello stare insieme soprattutto in Alta Erpinia